Voi volete tornare ad operare al mercato di Sciacca? Sì, noi vogliamo ritornare ad operare al mercato di Sciacca, pure se abbiamo avuto dei problemi nel 2017-2018, non abbiamo pagato l'isolo pubblico, però abbiamo cercato pure un punto di rincontro con l'ufficio tributi e cercare di rateizzare la somma e cosa fare è cercare di pagare per ritornare di nuovo al mercato, ma ci hanno imposto di non ritornare, non vogliono tornare nei loro passi per darci i nuovi posti. Voi complessivamente quanto dovete versare per queste due annualità? Allora, del 2017-2018 sono 1.260 euro, più ci sono gli aggiuntivi che sono il 30% della Mora e cosa fare, che sono totale penso sulle 4.000 euro.